questo è il formulario sul google moduli per accedere alle candidature per il programma cento idee con un asterisco rosso sono indicati campi obbligatori sono quasi tutti campi obbligatori ma i campi sono pochi quindi vedete il formulario è molto semplice il primo è l'indirizzo mail ecco qui la raccomandazione è indicato un indirizzo mail che voi consultate quotidianamente almeno una volta al giorno così che sia utile e perché poi è lo strumento con cui noi vi contatteremo per comunicare l'esito della selezione quindi se non lo consultate noi dopo tre tentativi consideriamo quella candidatura non utilizzabile quindi si perde quello che avete scritto il secondo campo è quello della privacy su cui vi chiediamo di cliccare una volta letta l'informativa insomma per consentire al trattamento dei dati i primi due campi descrittivi sono quelli relativi alla all'idea che proponete a chi siete prima chi siete però perché noi cerchiamo gruppi che abbiano idee abbiano voglia di fare cose poi in qualche modo vengono le idee gruppi per noi sono tre o più adolescenti quindi fasce d'età 14 18 ma può esserci anche qualcuno più grande o qualcuno più piccolo l'importante che il cuore del gruppo sia fatto da adolescenti insomma che abbiano un'idea quindi la voglia di fare una cosa e può essere un gruppo nuovo un gruppo che sia formato su questa idea oppure un gruppo di amici amiche che l'abbiano in mente da tempo ecco la cosa il consiglio che vi diamo a proposito dell'idea questa nel secondo campo è che l'idea quindi l'attività che andate a proporre sia qualcosa che vi siete immaginati bene cioè dedicateci almeno un pomeriggio una sera a parlarne insieme a farvi il film mentale di quello che volete fare ecco così che lo mettete a fuoco e siete sicuri di avere in mente la stessa cosa no voi che fate parte del gruppo così che sia più credibile più solida anche la vostra candidatura qui vi indichiamo vi suggeriamo di pensarla per un pubblico un quartiere insomma una forma di o di coinvolgimento di restituzione perché il comune milano cofinanzia il bando quindi insomma sarebbe bello che fosse anche dedicata a una comunità un territorio quello che andate a fare cosa vogliamo ottenere qui vi suggeriamo di immaginare il film e quindi il finale di quel film e quindi qual è il risultato che pensate di ottenere portando avanti quell'idea quella proposta che candidate qui il campo successivo è quello relativo al finanziamento quindi troverete tre scaglioni di budget possibile ecco non preoccupatevi troppo in questa fase del dettaglio c'è un secondo passaggio in cui con qualcuno di competente potete entrare nel merito delle singole voci di costo qui ci sono tre scaglioni per avere un ordine di grandezza che provate immaginare quanto può costare di cosa c'è bisogno consiglio non buttatevi nell'ultimo scaglione quello più ricco diciamo di risorse perché poi più soldi vuol dire anche più complessità più preventivi più difficile da gestire e magari non è detto che la vostra idea abbia bisogno di tutti quei soldi e poi se appunto è un'idea che non ha bisogno di tutte quelle risorse è un peccato non anche finire nello scaglione sbagliato cosa vi serve quale organizzazione di mente ecco questo è riferimento a risorse che noi vi mettiamo a disposizione da un lato degli spazi del comune per poter realizzare magari servono le idee che proponete c'è un albo spazi con cui poter andare a cercare quello che interessa e dall'altro c'è il riferimento a un ente mento cioè un'organizzazione che vi può affiancare per alcune questioni tecniche soprattutto avere preventivi gestire il budget entrare relazioni con altre organizzazioni capire come funziona l'utilizzo dello spazio pubblico ecco gli enti mentori sono soggetti quindi organizzazioni e quindi persone con cui avrete a che fare che possono darvi una mano a realizzare le cose no un'idea va realizzata e qui l'idea è se avete dei contatti o se volete sfogliando l'albo abbia abbonato al bando segnalare quale può essere l'entimento noi poi vi abbiniamo in modo tale da essere affiancati da subito in partenza con un ente che vi aiuta infine campo video se avete voglia o avete già un video di presentazione la possibilità di entrare in contatto diretto con l'entimento senza passare da noi se cliccate qui vi mettiamo direttamente in contatto e i vostri riferimenti personali per poter sapere come vi chiamate ecco questo è tutto speriamo sia sufficientemente semplice da poter candidare la vostra idea